Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Chiara Nasti, influencer e moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha condiviso sui social network la terribile esperienza vissuta nella propria casa. I ladri hanno fatto irruzione rubando gioielli, Rolex, scarpe e borse, lasciando dietro di sé solo distruzione e sgomento. La casa della coppia è stata svaliggiata per la seconda volta in soli otto mesi, con un bottino che potrebbe superare i 80 mila euro. Questa volta i malviventi hanno portato via almeno quattro Rolex, gioielli di valore e altri oggetti preziosi, lasciando la dimora completamente devastata. Il furto è stato scoperto da Chiara Nasti e dalla Colf. Al loro rientro a casa domenica 14 luglio. Il calciatore Mattia Zaccagni, attualmente fuori città, tornerà presto a Roma per affrontare la situazione. Una volta entrati in casa, la scena che si è presentata agli occhi dei poliziotti è stata agghiacciante. La camera da letto era stata completamente saccheggiata, con mobili rovesciati e armadi sventrati. I ladri sono entrati dalla porta finestra del bagno, utilizzando persino un frullino per aprire la cassaforte e portare via tutto ciò che trovavano di valore. Dopo aver messo a soquadro l'intera abitazione, hanno fatto perdere le proprie tracce, lasciando dietro di sé solo disperazione e rabbia. Chiara Nasti ha lanciato l'allarme e ora si trova a dover affrontare il difficile compito di A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!